Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, restano rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e il Bivio a 11 e 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Infipili code a tratti, ancora una volta verso Firenze, tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Voltiamo pagina per le statali sull'Aurele, segnaliamo rallentamenti percorsi a chiusa tra Scarlino Scalo e Gavorrano in direzione di Roma. Rallentamenti anche nel nodo di Cena in direzione sud. In chiusura per il traffico aereo segnaliamo che i voli Firenze-Francoforte delle 10.05 e Firenze-Düsseldorf delle 10.30 sono al momento segnalati in partenza con una mezz'ora circa di ritardo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!